e siamo tornati amici di betitaliaweb con la nostra rubrica sport usa news and tips che parla di sport americani dopo un paio di settimane di pausa per metà agosto ma non pausa dal podcast ma non pausa dai pronostici oggi riprendiamo la nostra rubrica fatemi attaccare la batteria dicevo riprendiamo la nostra rubrica perché c'è da parlare di sport americani di baseball vi darò in anteprima la free pick del giorno e analizzeremo alcune delle otto partite in programma dobbiamo parlare anche di nfl e dobbiamo parlare di college football perché nel fine settimana si inizia a fare sul serio questo weekend abbiamo già visto le prime due partite le abbiamo anche già analizzate tra domani e dopodomani uscirà un'interessante rubrica sul sito betitaliaweb.it dove abbiamo analizzato tutte le conference principali dando una nostra idea sui vari programmi impegnati alcuni pronostici con le quote anteposte eccetera quindi non perdetela volevo però iniziare dall'nfl perché la notizia del momento per quanto riguarda il sport usa è quella del ritiro di Andrew Luck che sconvolge la stagione le quote anteposte gli indianapoli scolts la notizia è arrivata dopo la sconfitta dei colts in week 3 di preseason contro i beers Luck che è stata la prima scelta al draft del 2012 era arrivato come sostituto il nuovo fenomeno dopo Peyton Manning quello che doveva prendere il posto di Peyton Manning è stata una carriera molto dove a sprazia abbiamo visto il talento di Luck ma ovviamente molto meno di quello che ci si aspettava Luck aveva saltato all'interno 2017 per un problema fisico e Indy in quella stagione aveva chiuso con un record di 4-12 8-8 ATS over under 6-10 c'era Jacoby Brissett che a questo punto dovrebbe essere il titolare QB del 2019 ovviamente questo cambia parecchio le forze in campo e le situazioni a iniziare dalle quote anteposte vittoria della divisione la AFC South Indy era favorita adesso si gioca ultima in lavagna a 6 di quota i nuovi favoriti sono gli Houston Texans a 2.80 che aggiungo io tra parentesi iniziano ad essere molto interessanti comunque anche qui nel nostro canale telegram sport usa news stiamo andando avanti con le anteprime le preview division per division arriveremo anche alla AFC South e ne parleremo comunque dietro a Houston c'è Jacksonville a 3.60 e poi i Titans a 4.50 ovviamente decolla anche la quota anteposte per la vittoria del Super Bowl dei Colts che passano da 18 a 51 e anche la vittoria di Confidence in AFC si gioca ora si gioca 23 volte la posta le vittorie di regular season erano fissate a 9.50 era una linea già altina con l'AAC ora sono ovviamente calate a 6.50 variazione anche nelle linee di week 1 contro i Church i Colts aprivano già da sfavoriti con più 3 punti di handicap in trasferta a delay la linea ora è salita fino al touchdown pieno ovvero più 7 per i Colts ovviamente dispiace perché si era già esposto con le scommesse anteposto penso alle vittorie stagionali alla vittoria divisionale tutte scommesse che secondo me sono già andate a farsi benedire quindi se potete coprite soprattutto in division bene direi che adesso possiamo già parlare di MLB abbiamo detto solo 8 partite questo lunedì una sola partita in prima serata intorno alle 20 adesso non ho sotto ecco 21.10 colorado Atlanta ne parliamo dopo perché voglio iniziare invece la partita del luna di notte Philadelphia-Pittsburg free pick in anteprima Phillis-Vincentia 1.80 lo so non ci hanno detto bene ultimamente ma sveglia per i Phillis che vedono allontanarsi la wild card Philadelphia ha perso due partite su tre nella serie a Miami dove ci siamo caduti anche noi rientrano in casa dove hanno un record di 38-28 al via ci sarà Jason Vargas che è arrivato dal mercato proprio per la rincorsa ai playoff della seconda parte di stagione è arrivato dai Mets in tre stars su quattro ha fatto abbastanza bene concedendo solo due run agli avversari per i Pirates invece c'è Joe Musgrove che ha concesso 17 run negli ultimi quattro stars ovvero un 7.71 era Pittsburgh arriva da tre vittorie interne contro i Reds tutti in casa però e oggi potrebbe tornarsi a fermare in trasferta dove questa squadra ha un 26-38 di record maggior motivazione, fattore campo per i Phillis che oggi sono superiori anche sul monte di lancio alcuni trend interessanti i Phillis sono 12-5 nelle uscite dopo una sconfitta mentre i Pirati sono 6-20 in trasferta contro squadre con record vincente e 2-8 negli ultimi viaggi a fila i Phillis devono svegliarsi la quota non mi dispiace nemmeno a 1-80 è la free pick di oggi procediamo adesso con 5 analisi veloci che ho fatto per eventuali scommesse, conferme eccetera come al solito vi rimando ai nostri canali Telegram e anche al nostro servizio sempre su Telegram nel Bipro in abbonamento se siete interessati contattateci dicevamo la prima sfida a 21-10 orario italiano Colorado-Atlanta Colorado a 2-35 Atlanta a 1-64 linea over-under leggermente altina a 13 però si gioca a Corsfield e lo sappiamo Atlanta a 28 partite di fila compreso lo sweep inflitto ai Mets nello scontro divisionale il bullpen sta macinando alla grande 0-64 era negli ultimi 28,1 inning Colorado invece arriva da 4 scompite con 31 run subite è 1-6 nelle ultime set che altro dire in stagione Atlanta è avanti 3-2 in 5 sfide contro Colorado in queste partite l'attacco dei Braves ha segnato 32 run quello dei Rockies 31 quindi è ovvio aspettarsi una linea over-under alta attenzione tra i giocatori da tenere sotto controllo Ronald Acuna Junior dei Braves ha messo a segno 15 home run in 41 partite dopo l'All-Star Game dove era anche protagonista nell'home run derby al via per i Braves ci sarà Teran che a Ferragosto ha segnato una delle peggiori prestazioni non solo in stagione ma in carriera 6 run concesso in poco più di un inning contro i Mets si è ripreso la settimana scorsa contro Miami 7 inning dominanti 0 run concesso e 9 strikeout negli ultimi 20 start Teran ha tenuto un 2-87 era che è un signor numero ad aprile no hitter in Colorado che non è una cosa da tutti quindi attenzione attenzione però dall'altra parte va detto che ci sarà Tim Melville per i Rockies secondo start dopo un ritorno impressionante non lanciava dal 2017 ha tenuto Arizona a una sola run e due validi in 7 inning davvero tanta nuova dicevamo linea overhander altissima perché siamo a Corsfield inoltre attenzione oltre agli starter sono ottimi questo va detto se tutto non andrà a secondi piani e se faranno prestazioni un po' più corte attenzione perché Colorado ha sempre il terzo peggior bullpen della Lega 5-26 era anche i rilievi di Atlanta non stanno facendo bene in questa stagione gli attacchi invece sì quindi attenzione siamo inoltre overhander 4-1 nelle ultime sfide tra Rockies e Braves però come detto la linea è veramente impegnativa passiamo a dire due paroline anche nella sfida di NL Central tra prima e terza ovvero tra Cardinals e Brewers ma si gioca a Milwaukee i Cardinals hanno vinto 6 delle ultime 7 sfide contro i Brewers si sono presi il comando della division arrivano da 4 vittorie contro Colorado come abbiamo detto 31 run segnate Milwaukee invece dopo 3 vittorie ieri si è fermata nella sconfitta per 5-2 contro Arizona tra l'altro una delle nostre casse da sfavoriti di Bex a 2-10 li avevamo consigliati oggi per i Cardinals partirà Adam Van Vrijt che la settimana scorsa ha perso in casa proprio contro i Brewers in questa stagione sta facendo male in trasferta 3-6 con 6-64 era molto meglio in casa 6-3 con 2-67 era quindi proprio molto ma molto meglio dall'altra parte Joe Gonzalez non vince da 8 start al 15 maggio scorso anche se sta facendo il suo sta lanciando bene ha concesso una run in 6 inning la settimana scorsa contro i Cardinals in 4 degli ultimi 5 start ha concesso 2 o meno run agli avversari in carriera contro i Cardinals ha un ottimo rendimento 3-11 era in 11 prestazioni in 11 start qui verrebbe voglia di giocare sui Cardinals che nel complesso stanno dominando contro i Brewers di recente sembrano stare meglio 2-10 è una quota veramente golosa però Vainbright in trasferta non so qui ci dovremo ragionare nel dettaglio passiamo a Miami qui invece potrebbero vincere gli ospiti però da favoriti i Reds si giocherà 1-62 Miami è data 2-45 linea over under molto bassa 7-5 i Reds sono favoriti anche se come abbiamo detto arrivano da 3 dell'udenti sconfitta a Pittsburgh Miami invece ha chiuso in positivo la serie contro Philadelphia 2 vittorie su 3 ma ha subito uno sweep con 3 sconfitte a Cincinnati ad aprile una run segnata a 21 concessi quindi una serie davvero negativa per Miami è tutta a favore dei Reds che oggi proveranno a farsi sentire di nuovo con uno dei migliori sul monte di lancio Sonny Gray è 7-1 con 2-25 erano nelle ultime 12 prestazioni inoltre si è dato 3 volte Miami tenendo un 3-38 era con 1 beep 1 tondo tondo dall'altra parte vedremo Pablo Lopez che sta giocando una stagione da 5-5 con 4-23 era rientra però da un infortunio staremo a vedere io sono più favorevole per i Reds però quota molto bassa in trasferta e Miami ultimamente in casa ci ha fregato spesso diciamo due cose anche Kansas City perché sapete che amo giocare contro Homer Bailey che torna al Kaufman Stadium dove ha iniziato la stagione anche per oggi non mi sento nemmeno ad andare su Kansas City gli Athletics devono riprendersi dalle ultime due sconfitte contro San Francisco non vado su Kansas City che è data a 2-35 perché ovviamente Ucran è superiore anche se anche se per i Royals partirà Brad Keller che non vince da 5 start anche se ha lanciato bene a Baltimore la settimana scorsa 0 run e 3 valide concesso in 6 inning sesto star di qualità nelle ultime 8 dall'altra parte dicevamo di Bailey che comunque va detto che non sta facendo male da quando è arrivato nella Baia in particolare nelle ultime due uscite contro Giants e Yankees ha concesso una sola run con 15 strikeout messi a segno in 12,2 inning quindi la quota di Kansas City a 2-35 è ovviamente giustificata e Athletics ovviamente favoriti però a 1-64 in trasferta con Bale devo pensarci un po' chiudiamo San Diego perché ci sono i Peders favoriti a 2-30 contro i Dodgers a 1-66 linea overhand era 8,5 attenzione alle sorprese oggi perché il dominio dei Dodgers il dominio delle ultime stagioni dei Dodgers contro i Peders si è un po' incrinato nelle ultime sfide i Peders sono addirittura avanti 4-3 i Dodgers arrivano dalla super serie del weekend chiusa con una vittoria e due sconfitte contro i rivali di New York San Diego invece dopo quattro sconfitte ieri si è ripresa nel 3-1 contro Boston era una delle giocate non al bilancio che avevo consigliato su Telegram perché dico attenzione sorpresa si gioca a San Diego abbiamo visto i recenti precedenti poi per i Peders partirà Eric Klover che ha concesso un totale di 9 run tutto il mese di agosto compreso lo start di inizio mese contro i Dodgers 2 run in 6 ottimi inning in tre sfide stagionali il buon Leo era tenuto la line up dei Dodgers quindi non una delle ultime anzi una in top 5 ha tenuto la line up dei Dodgers a un misero 175 di media battuta in carriera contro i Dodgers davvero si infiamma 4-0 con 1-72 era che altro dire in casa quest'anno sta facendo abbastanza bene 3-3 con 3-10 era dall'altra parte c'è Dustin May al via per i Dodgers ha concesso 4 run in 2 inning da rilievo contro Atlanta dopo che l'avevamo visto impegnato in 3 start in cui aveva lanciato per 17 inning concedendo 6 run 4 di queste 6 run però l'aveva concessa al debutto contro San Diego proprio 4 run in 5,2 inning quindi attenzione davvero alle sorprese la linea tra l'altro di San Diego non sono l'unico a pensarla così visto che rispetto a qualche ora fa quando avevo iniziato ad addocchiare la lavagna è scesa da 2,45 a 2,30 è sempre buona però è in discesa quindi valutate San Diego io vi ricordo che la free pick è fillis vincente a 1,80 contro i Pirati speriamo che Philadelphia non ci dia un'altra delusione io vi ringrazio di avermi ascoltato vi auguro una buona serata fate buone scommesse e puntate sempre con la testa ciao 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 Grazie.